Perché esistono i social media e come siamo arrivati a spenderci due ore al giorno? Come hanno fatto delle aziende che per anni hanno perso soldi come un collaboroto a diventare alcuni dei prodotti più importanti della nostra vita quotidiana? Ci sono sicuramente tantissime ragioni, tra cui lo sviluppo tecnologico, il modo in cui la nostra società si stava e si è evoluta, ma oggi voglio concentrarmi sui soldi. Chi ha creato la mentalità, chi ha dato la possibilità a queste aziende di crescere, di crescere in maniera esponenziale, chi ci ha messo i fondi? Tra tutti gli investitori che hanno speso miliardi in queste aziende, quello più iconico, più famoso, è sicuramente Sequoia Capital, appunto il fondo di investimento più famoso della Silicon Valley e il terzo al mondo per capitali gestiti. Se ne avete sentito parlare è perché sono stati tra i primi ad investire in Google, Apple, Oracle, YouTube, Instagram, Zoom, WhatsApp, LinkedIn, PayPal, Airbnb, quindi una buonissima percentuale di tutti i social media che usiamo oggi. E capirete anche perché il rendimento medio dei loro investimenti è stato tre volte superiore a quello dello stock market americano. La storia di Sequoia comincia nel 1972 con Donald Valentine, che decide di raccogliere ed investire 3 milioni di dollari. Le sue prime scommesse sono su Apple e Atari in particolare, che capirete non sono state assolutamente male come scommesse su aziende che erano appena agli inizi. Ma torniamo alla domanda iniziale. Perché ritengo che Sequoia sia stato un fondo fondamentale nel modo in cui i social media si sono sviluppati al giorno d'oggi? Perché è un fondo talmente iconico, talmente famoso, che il loro modo superandi è diventato uno standard nella Silicon Valley per tantissimi altri investitori? In particolare, non Valentine, ma anche i suoi leggendari successori, quindi Doug Leone e Michael Moritz, hanno rafforzato alcune regole precise che oggi nel mondo VC sono ancora seguite. Il primo è quello di continuare a scommettere sui propri investimenti vincenti e quello di tagliare invece gli investimenti che non vanno. Questo può essere sicuramente considerato un approccio al limite, che però si è rilevato vincente per loro e per tanti altri investitori. Un altro aspetto è legato a quello del mercato in cui investire. Sequoia si è sempre concentrata sul cercare e trovare mercati potenzialmente enormi, ma ancora poco maturi. Comunque ci doveva essere un certo tipo di validazione riguardo al mercato stesso, ma ci dovevano essere magari ancora pochi player in gioco e c'era ancora più spazio per crescere, per diventare grandi all'interno di questo mercato. Cercano poi di solito soluzioni diverse, qualcosa che se dovesse funzionare potrebbe potenzialmente rivoluzionare il mercato, potrebbe anche rivoluzionare il mondo, se pensiamo all'effetto che tante delle aziende su cui loro hanno investito poi hanno avuto. E chiaramente, stessa cosa che abbiamo ripetuto nel video che vi consiglio su come funzionano gli investimenti in startup e come fanno soldi gli investitori nelle startup, Sequoia si è sempre concentrata su aziende che potessero potenzialmente ritornare 100, 200, 500, 1000 volte quello che loro investivano. Non erano interessati in tanti piccoli investimenti, ma che potenzialmente potrebbero diventare grandi. Ecco, diciamo che la sicurezza non era la loro priorità quando si trattava di investire. Capirete che queste regole, tra virgolette, si sono tradotte in un mercato assolutamente fertile per i social media, che rispettando la regola 1 si trovavano in un mercato con sicuramente tanto interesse, con la riprova di potenziale enorme di utilizzo anche da parte degli utenti, e un mercato che era ancora poco maturo, con poca regolamentazione, con pochi competitor, e con quindi lo spazio di fare tantissime cose diverse. Quindi l'esempio di Google è lampante. Sono arrivati in un mercato che aveva ancora pochissimo supporto da un punto di vista di organizzazione dei contenuti. C'era un minimo che provava la possibilità di un mercato interessante da quel punto di vista. Google ha cominciato a fare le cose in maniera differente, come appunto è ricettato anche in un'altra delle regole, e poi ha conquistato il mercato ridando migliaia di volte quello che era stato investito in loro. Questo è un ragionamento che si applica anche su Facebook e YouTube. L'aspetto di continuare a scommettere e a investire tanto sui vincitori è anche quello che ha facilitato un altro approccio iconico di tante aziende come Google, Facebook, Airbnb, cioè quello di concentrarsi non tanto sull'aumentare in maniera esponenziale i guadagni all'inizio, ma quello di aumentare la quota di mercato. Se le aziende appunto come Facebook si fossero dovute concentrare sulle revenue da subito invece che concentrarsi sull'essere diffusi il più velocemente possibile, beh, la loro crescita e il loro tipo di crescita sarebbe stato assolutamente diverso e molto più lento. L'idea di investire tanto e in maniera continuativa sulle aziende che invece funzionano, le aziende che vanno bene, ha contribuito a un approccio storico, iconico, fondamentale nella diffusione dei social media. Infatti aziende come Facebook, Google, YouTube sapevano di avere l'appoggio dei propri investitori non tanto e non solo grazie alla crescita dei loro guadagni, ma grazie alla loro crescita nella quota di mercato. Cioè un Facebook sapeva di poter ottenere un investimento da tanti investitori dimostrando una crescita di utenti incredibile anno dopo anno e diciamo non aveva bisogno di concentrarsi sulla crescita dei guadagni prima di raggiungere le decine di milioni di utenti. Monetizzare Facebook dall'inizio sarebbe stato estremamente più complicato. Quindi dare l'opportunità a queste aziende di concentrarsi sulla distribuzione massiccia, capillare del proprio prodotto, ancora prima di capire come effettivamente monetizzarlo, cioè non era chiaro come Facebook, come Google, come YouTube sarebbero state monetizzate fin dall'inizio, è un disegno che si è venuto a creare con la consapevolezza che gli investitori avrebbero continuato a investire finché ci sarebbe stata questa traiettoria di crescita importante e una convinzione da parte degli investitori che una volta raggiunta una massa critica ci sarebbe stato un modo di monetizzare. Chiaramente c'erano delle ipotesi, c'erano delle teorie, però non erano state necessariamente provate prima di metterle appunto al test con gli utenti effettivi. Quindi se non ci fosse stato questo approccio, molti social network non sarebbero riusciti ad arrivare alla scala che hanno raggiunto in maniera così rapida. Chi lo sa, magari avrebbero comunque raggiunto lo stesso numero di utenti che hanno oggi, ma penso che i risultati sarebbero stati quantomeno leggermente diversi. Questa è una strategia, è una mentalità che se vogliamo ha bruciato anche tante altre startup, tante altre aziende, però come dicevamo anche nel video già citato su come funzionano gli investimenti in startup, quello che interessa effettivamente a un'azienda come Sequoia è quello di avere un'azienda vincitrice all'interno del fondo che dia un ritorno di 500-1000 volte, quindi un grande vincitore è meglio di tante piccole aziende che ce la fanno e che continuano più o meno a campare, ecco. Ma quindi, in quali social ha investito Sequoia? Sequoia, tra quelli che io considero social network, quale più quale meno, ha investito in Instagram, Whatsapp, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Reddit e Tumblr. Noterete la mancanza di un grande player, cioè Facebook. Bene, chi di voi ricorda il film The Social Network? Anche se non doveste ricordare il film, probabilmente ricordate una scena con Mark Zuckerberg, diciamo l'attore che interpreta Mark Zuckerberg, in pigiama. La ricorderete anche perché è diventata un po' una sorta di meme. Bene, quella storia è vera e, diciamo, nel film non penso venga citato, ma Mark, nella storia vera, stava andando in pigiama negli uffici di Sequoia. C'erano stati alcuni screzi tra alcuni dei manager, appunto, di Sequoia e Sean Parker, che era Justin Timberlake nel film, comunque un partner di Facebook, mi sembra presidente di Facebook all'epoca, e così sia Sean che Mark decisero di mettere su questo prank, questo scherzo, invece di un pitch vero e proprio, diciamo, spiegando perché non avrebbero dovuto investire nell'azienda, anche inventandosi un'altra azienda, appunto, andando in pigiama, entrando in ritardo. Quindi Sequoia ha perso forse uno dei potenziali migliori investimenti della loro storia perché c'erano stati questi screzi tra un manager e Sean Parker e Mark ha deciso di fare il simpaticone perché, chiaramente, non hanno investito. Un'altra azienda in cui non hanno investito, che manca la lista, è Twitter. Nel caso di Twitter, secondo quanto si dice, non hanno investito perché avrebbero voluto una quota maggiore dell'azienda, quindi magari un 20% invece di un 5%, un 15% invece di un 10%, e non l'hanno fatto, hanno deciso di non proseguire. Quell'investimento gli avrebbe dato un ritorno di mille volte, però quando si tratta di essere un allocatore di capitali come Sequoia che comincia ad avere un capitale importante, diventa anche importante avere la capacità di fare scommesse più grandi perché altrimenti il lavoro che devi fare per deployare, per mettere al lavoro miliardi di dollari diventa incredibile, quindi vuoi cercare di consolidare le tue posizioni, spiace in aziende che pensi che funzionino. Però, oggettivamente, questo è stato un errore. Bene, quindi abbiamo notato, diciamo, la loro incidenza diretta sul mondo dei social network, ma ci tengo a stressare il fatto che il loro impatto, secondo me, è stato ancora più forte in maniera indiretta, cioè vedere una storia di successo come quella di Sequoia, che sicuramente non era l'unica, ma che in un certo senso portava avanti una narrativa, ha convinto, ha aiutato, ha portato tante altre persone che entravano nel mondo del venture capital a seguire lo stesso tipo di approccio. Tant'è vero che anche al giorno d'oggi, quando si pensa all'approccio che un investitore medio ha, si ricalcano un po' i dettami che vi ho detto prima all'interno del mondo di, diciamo, di Sequoia, che esistono all'interno di Sequoia come azienda. Poi, chiaramente, questa è un'azienda che al giorno d'oggi si è tramutata in maniera incredibile. Il livello di capitali che sono riusciti a raccogliere grazie a queste storie di successo non è neanche comparabile a quello che magari raccoglievano nel 2005 quando facevano alcuni di questi investimenti e quindi anche la loro strategia sta cambiando col tempo. Sono stati anche un po' rivoluzionari nella creazione di questo fondo unico invece di raccogliere tanti fondi su base annuale oppure biennale. hanno cominciato a avere una sorta di fondo unico appunto in cui le aziende e le persone possono investire in maniera continuativa. Quindi sicuramente sarà interessante vedere cosa cambierà. E ci sono stati anche tanti altri cambiamenti nel mercato con l'arrivo di VC come Tiger Global che vengono dallo stock market e che portano un approccio ancora più estremizzato rispetto a quello di Sequoia verso gli investimenti. Un approccio in cui non si interessano quasi neanche più della valutazione a cui investono semplicemente vogliono investire in più startup possibili danno come vantaggio ai founder un approccio molto più hands off quindi gli dicono no non vi romperemo le scatole a volte non vogliono neanche posti nel board delle startup insomma vediamo quale dei due approcci si ritroverà più si ritroverà vincente tra qualche decennio ma appunto mi interessava portarvi questa storia perché credo che sia stato un qualcosa di poco considerato che però ha avuto un impatto enorme sul mondo in cui viviamo oggi sicuramente i social media sarebbero esistiti uguali sicuramente avrebbero avuto successo ma magari non avrebbero avuto lo stesso successo che hanno avuto oggi non sarebbero cresciuti allo stesso modo se non fosse stato per alcuni fondi pionieri tra cui Sequoia Sequoia è sicuramente quello più importante e quello più interessante io vi ringrazio per aver seguito questo video questa storia vi ricordo come al solito che potete fare le solite cose che vi chiedono tutti gli youtuber cioè iscrivervi, mettere mi piace, condividere e tornare al prossimo video noi ci vediamo alla prossima come al solito ciao ciao